Sono Montemale Marco, lavoro per la Stadone Service Italy, un'azienda che si occupa di manutenzione e assistenza ferroviaria, nello specifico qui nel lavoro al cantiere di Mestre, Venezia, il nostro cliente Trenitalia e io sono il responsabile delle revisioni. Abbiamo un problema di accesso all'imperiale, al tetto dei veicoli, che causa mancanza di un'attrezzatura che permettesse sia di raggiungere appunto il tetto del treno, ma anche di stare in sicurezza, non essendoci nel capannone una linea vita o qualsiasi mezzo di sicurezza per le cadute dall'alto. Insieme al rappresentante di zona della ditta Faraone abbiamo trovato una soluzione che permettesse sia un accesso facile al tetto, ma anche una protezione dalle cadute. Quindi è stata costruita dall'azienda una scala con l'altezza che permettesse di arrivare al tetto, ma anche un ring di protezione che appunto avvolgesse il lavoratore e mettesse in sicurezza la persona da qualsiasi tipo di caduta e quindi ci permette di svolgere i lavori senza nessun pericolo. Io nella mia esperienza, che lavoro da 11 anni in questo settore, ho lavorato con altre strutture della Faraone, anche non nostre, ma messi a disposizione dai nostri clienti e ho sempre notato una grande robustezza delle attrezzature, una semplicità di movimentazione e di utilizzo e nella fattispecie questa struttura è quella più complessa che abbiamo avuto nell'azienda. Tutti noi troviamo in questa attrezzatura, nonostante la complessità e la grandezza del mezzo, una grande flessibilità di movimento e facilità di ritirare la scala dal treno, di allontanare la scala e di chiudere il ring di protezione montato sulla parte più alta. Ho girato tanti cantieri, ho visto tante attrezzature, tanti dispositivi per accedere all'imperiale dei veicoli e mi sono spesso trovato con strutture della Faraone magari non di quella complessità ma qualcosa simile e ho sempre notato da parte del cliente una grande soddisfazione e quindi ho richiesto un contatto al rappresentante di zona e da là è partita il mio rapporto con l'azienda.